La classica goccia che ha fatto traboccare un vaso già colmo. L'ennesima multa rifilata dal giudice sportivo di 550 euro ha fatto sbottare la Paffoni, che ha emesso un duro comunicato stampa per esternare il proprio disappunto. In Casa Rosso Verde la sensazione è di essere nel mirino. Capitava in A2 quando Megna era la cenerentola e nonostante in termini numerici il suo pubblico fosse minoritario rispetto alle grandi del basket italiano come Bologna, Treviso, Siena, Roma e Reggio Calabria arrivavano multe in maniera molto maggiore rispetto a queste realtà. Ora in serie B dove i ruoli si sono invertiti, visto che la Paffoni rappresenta l'elite del campionato, la società di riferimento e la squadra da battere, le cose non sono cambiate. Adesso basta, la Paffoni Fulgor Basket, si legge nel comunicato stampa, esprime la propria rabbia, il proprio stupore e il proprio malcontento per l'ennesima multa combinata dal giudice sportivo sulla base del referto arbitrale dopo la partita di sabato scorso contro la Roburt e Fides Varese. Crediamo che a tutto ci sia un limite e la linea è stata oltrepassata. Mai, e sottolineiamo mai, in quasi vent'anni di attività si sono verificati episodi incresciosi all'interno del nostro palasport, dove gli avversari vittoriosi spesso sono stati applauditi. Ne siamo talmente convinti che invitiamo il giudice sportivo a partecipare ad una delle prossime partite casalinghe, per vivere insieme il clima di festa che si respira ad ogni incontro e per capire quanto siano ingiuste certe valutazioni sul comportamento fatte della classe arbitrale nei nostri confronti. Se avere il pubblico più numeroso e caloroso del girone A di Serie B è una colpa da espiare, diciamo a chiare lettere che non ci stiamo più nel ruolo dei polli da spennare. Preferiremmo donare soldi in beneficenza, come fa da sempre la nostra associazione di riferimento nel sociale, la Kenzio Bellotti, che in cinque anni ha donato 100.000 euro a chi ne ha davvero bisogno, concludono da Via Mazzini.